Facciamo i pomodori in conserva. Laviamo bene i pomodori, facciamoli asciugare, tagliamoli a metà e posiamoli su un tavoliere di legno ricoperto di carta. Mettiamo i nostri pomodori al sole e lasciamoli seccare. Ricordiamo di girarli almeno una volta al giorno. Dopo 4-5 giorni al massimo i nostri pomodori sono pronti per essere invasati. Prepariamo qualche foglia di basilico fresco, un po' di aglio ed un barattolo. Io gradisco mettere il basilico a foglie intere e non tagliate. Posizioniamo in questo modo i pomodori secchi in barattolo. Aggiungiamo di tanto in tanto una foglia di basilico e alcuni pezzettini di aglio. Certamente l'aglio è a discrezione e a volontà di chi piace o meno. Arrivati al bordo aggiungete un'altra foglia di basilico, un po' di aglio ed immergete il tutto in olio di oliva. Mettete abbondante olio di oliva fino a raggiungere il bordo. Chiudiamo ed andiamo a riporre in un luogo fresco e buio. Potete usare i pomodori sott'olio per qualsiasi avvenienza in cucina, come antipasto, come contorno o semplicemente farcire panini nostrani. Buon appetito!